La coscienza Ora io saprei che è questa coscienza che spessi ci sono tutti i nomi Sto mi spiegato di fare la conoscenza spiegatemi che cosa significa oggi spiegato non è in scuola quando è in scuola all'università mi ha detto figlio mio questa parola si usava sì ma tanto tempo fa ora la coscienza si è disintegrata poco sono rimasti i nomi che questa parola resta attaccata campagna con l'onore e dignità poi c'è la segna a vuoto il peculato, la cambialetta queste cose che hanno